francese sono le 7 25 svegliati subito oh cazzo è tardi è finito il coso francesco stai in ritardo muoviti si subito wow pure oggi mamma mamma il dentifricio non l'hai comprato ecco la soluzione a tutti i due problemi che cos'è? splash tube, refresh people si ma come funziona? usarlo è semplicissimo basta inserire il dentifricio nell'apposita vessura adesso basta spingere aprire il dentifricio eccola ok 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 ok